Dall'altare della promozione in Serie C alla polvere di un probabile illecito sportivo, il passo per il Bitonto Calcio si è fatto più breve di quello che si potesse immaginare. Soprattutto da quando la procura delle federazioni italiane Gioco Calcio ha comunicato alla chiusura delle indagini circa la presunta combin di Picerno Bitonto, partita disputata il 5 maggio, data manzoniana appunto, del 2019. Secondo le carte federali, i 30 danari dell'accordo e del tradimento al principio di lealtà che dovrebbe vigere sempre nelle competizioni sportive, sarebbero i 25 mila euro assicurati dalla formazione potentina alla squadra ospite, in particolare sei giocatori e tre dirigenti, per il tramite di un bitontino allora tesserato per un altro club. Insomma, un pasticciaccio brutto che ha sprofondato nello sconcerto non meno che nella delusione i tifosi neroverdi, che hanno trovato quantomeno strana la tempistica di comunicazione della procura federale e si chiedono come sia possibile che dopo quello che ha costruito fra mille sacrifici e altrettante rinunce, una persona per bene come Francesco Rossiello possa vanificare tutto con una leggerezza del genere. Gli instagabili sostenitori delle oncelli sono terrorizzati dalle pene che potranno essere inflitte a chi è rimasto coinvolto nella vicenda e si lamentano dei tanti sciacalli che nelle ultime ore stanno gironzolando sinistri intorno a questa situazione. Ed infine si sbilanciano fino a paragonare questa storia torbida ad un nuovo caso Tortora, specie se si considera che il patron sarebbe coinvolto per una cifra davvero risibile. Sarebbe un'ingiustizia come quella colossale che colpì il noto presentatore Rai. Frattanto, il sodalizio ribadisce con fermezza la propria totale estraneità ai fatti, promette la giusta battaglia legale necessaria per stabilire la verità, e ribadendo come l'operato sia stato sempre improntato sul rispetto e sulla condivisione dei valori di lealtà ed etica sportiva, annuncia il silenzio stampa in attesa che la giustizia penale e sportiva faccia nel loro corso e tutto venga chiarito. Frattanto, il sindaco Michela Batticchio difende i colori neroverdi senza sé e senza ma. Io prenderei ad esempio il silenzio stampa della società che correttamente si è messo in silenzio stampa per far svolgere immagino il lavoro, anzi ne sono certo, il lavoro nel modo più sireno possibile a chi di competenza che deve emettere la sentenza. Come ho già scritto nel post, inviterei a tutti gli altri a fare altrettanto, quindi a starsene zitti, a non infangare il nome della città di Bitonto, a non emettere sentenze prima degli organi competenti. Noi le accetteremo con rispetto alla dignità che ci ha sempre caratterizzato la nostra storia e poi dopodiché, quando verrà emessa, ci sarà tempo e modo per esprimere le opinioni. La prima udienza è prevista a Roma il 3 agosto prossimo, giorno in cui gli imputati potranno presentare la loro memoria difensiva.